Amacardan nasce in Abruzzo, nel centro dell'Italia, grazie al know-how di professionisti specializzati nella produzione di alberi cardanici. Con una produzione di quasi 50.000 articoli esportati in tutto il mondo, nel 2019 l'azienda ha raggiunto un fatturato di 4,6 milioni di euro. Grazie alla costante evoluzione, oggi l'azienda offre una gamma di cardani completi, tubi in ferro con diversi profili, forcelle, organi di sicurezza, giunti omocinetici, sia per il mercato OEM sia per quello aftermarket. Particolarmente apprezzate sono le trasmissioni cardaniche congiunto omocinetico, con differenti profili, e la ricca linea di componenti, tutto omologato secondo le norme vigenti. Inoltre la linea estetica ricercata permette ad Amacardan di distinguersi dai concorrenti, senza tralasciare l'innovazione tecnologica. L'intero processo produttivo ha luogo nel nuovo stabilimento di 7.000 metri quadrati a Casoli, dove la progettazione accurata e l'impiego di materie prime di elevata qualità consentono di offrire prodotti affidabili, sicuri e resistenti agli agenti atmosferici. Grazie a tutti!